Grazie a tutti. Che viene tirato in mezzo da una sua giocatrice di pallavolo che in qualche modo lo seduce ma poi diventa il tentativo di rimediare a questa situazione, io sono sposato con figlio, il tentativo di rimediare a questa situazione mi fa entrare in un vortice di goffaggine un po' astarnata. Grazie Fabio. Grazie a tutti.